buona giornata ti invito oggi a meditare brevemente con me la parola potente che pietro dice allo storpio lo storpio dalla nascita che chiedeva l'elemosina al tempio la portabella del tempio pietro vedendo come lo guardava dice non ho né oro né argento ma quello che ho te lo do nel nome di gesù nazareno alzati e cammina ecco questa parola potente gesù la dice a noi oggi perché possiamo riprendere il cammino della nostra vita ricominciando ad amare ogni volta che noi ricominciamo ad amare come se ci alzassimo in piedi e riprendessimo a vivere a camminare poi qualche volta può capitare che il signore si serve di noi per essere di aiuto agli altri sarebbe bello che venisse l'ora in cui anche noi potessimo dire a qualcuno non ho niente ma nel nome di gesù ti do la forza di ricominciare ad amare ecco mi ricordo anche una delle prime parole che il papa francesco ha detto dopo la sua elezione in un incontro con i giornalisti ha detto come vorrei una chiesa povera e per i poveri ecco in questa immagine di pietre giovanni si vede proprio questa chiesa non ho né oro né argento ma quello che ho te lo do ecco una chiesa che è povera ma che ha la potenza della fede la potenza dello spirito santo ecco preghiamo anche questo scopo perché il signore ci aiuti a camminare su questa strada per questo ti benedico di nuovo il signore sia con te padre santo rinnova la tua benedizione su questo tuo figlio o figlia e su tutti quelli che oggi camminano nel tuo nome nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ti auguro una santa giornata